dopo 26 anni di carcere duro dopo 26 anni quindi di 41 bis francesco schiavone detto sandokan il capo del clan dei casalesi ha deciso di collaborare con la giustizia è arrivata come una bomba questa notizia quasi 30 anni di carcere il suo silenzio è stato garanzia del suo potere in questi anni francesco sandokan schiavone è rimasto al vertice di un'organizzazione gestita da due consoli lui e francesco bidognetti cicciotto di mezzanotte già con questa decisione sandokan dismette il suo ruolo di capo nessun capo può collaborare con la giustizia e quindi una buona notizia ma per sapere se davvero si sta pentendo e non è solo una strategia per evitare il ergastolo ostativo lui sta appunto per arrivare ai 30 anni e sa che da capo anche con 30 anni di carcere non esci allo stesso modo il figlio si è pentito non nicola non sembra che abbia rilevato rivelato cose non ha rivelato informazioni a quanto sappiamo così particolarmente determinanti la moglie si è pentita sono state tutte strategie di avvicinamento alla sua decisione il rischio il grande rischio è che faccia come ha fatto per esempio augusto la torre un altro importantissimo camorrista sottovalutato mondragone capo della famiglia dei chiovi di mondragone che a un certo punto si è pentito ha fatto pentire tutti di fatto gli uomini ai vertici del suo clan si sono accusati tra loro tutti potendo avere sconti di pena ha dato informazioni alcune molto rilevanti ma di fatto non è mai riuscito a disarticolare l'organizzazione soprattutto svelare dove sono i soldi antonio joveni si è pentito quindi anche lui come la torre e come adesso sandokan rinuncia al titolo di capo ma i soldi dove sono i soldi le informazioni ci sono state ci sono state molte generiche dichiarazioni su omicidi spesso cose che già sapevamo che non si aveva una sentenza formale ma gli indizi portavano tutto in una direzione insomma pentimenti di superficie fatti per salvare il patrimonio fatti per non fare l'ergastolo e in una sorta di negoziazione con uno stato il nostro fragilissimo dove tu dai l'immagine del boss che decide di non essere più un capo qualche informazione in cambio ai sconti di pena quindi sono molto preoccupato che questo pentimento possa essere un gran teatro intendendo con teatro una messa in scena ma poi di fatto poco verrà detto quindi bisogna monitorare non lasciare che la notizia come a me accadrà sia oggi all'apice dell'informazione poi tutto resti nell'ombra come sarà gestito sarà fondamentale va ricordato che francesco sandokan schiavone è il capo di un'organizzazione che ha avuto un diretto uomo politico secondo quanto le sentenze ci raccontano nicola cosentino in un ruolo apicale cioè sottosegretario all'economia questo fa di sandokan un conoscitore dei rapporti tra organizzazione criminale e politica quello che sindora i pentiti hanno detto riguarda solo il segmento ultralocale provinciale delle dei rapporti ci serve che qualcuno racconti invece del potere nazionale internazionale del clan dei casalesi dentro la politica il pentimento di sandokan genera su di me chiaramente euforia e malinconia io ricordo benissimo quando fu arrestato nella villa bunker a via bologna a casa al di principe quasi trent'anni fa per arrestarlo hanno dovuto fare un'operazione unica cioè far arrivare una squadra di poliziotti che per mesi anzi per un mese ha finto di essere una squadra di operai che stava lavorando per conto non del comune ma per conto della regione al sistema fognario e quindi quei volti sono stati a un certo punto accolti non monitorati due volti di operai che in realtà poi erano sbirri e vedevano entrare uscire in alcuni casi sandokan con la macchina e quando decidono finalmente di rompere in villa avendolo visto che era entrato quindi c'era non lo trovano non lo trovano per ore non c'è niente da fare non ci sono botole non c'è niente è impossibile trovarlo non battono col fucile su sulle pareti sono tutte piene non ci sono intercapedoni insomma stanno per desistere quando arriva l'idea l'idea al capo dell'operazione della polizia di stato che decide di sparare lacrimogeni dentro delle condutture che apparentemente sembravano condutture del gas e invece erano tubi che pompavano aria da qualche parte a quel punto sente un grido quindi sente urlare basta ci sono le bambine basta ci sono le bambine era sandokan che era nascosto in un bunker accessibile solo alzando in due punti la tazza del bagno e poi c'era un'altra possibilità uno scorrimento di un di un muro di cemento armato che si muoveva su un binario stessa stessa tecnica usata poi da zagheria quindi tu quando andavi a battere anche con un martello trovavi un muro di cemento armato non trovavi cartongesso compensato cose del genere e questo permetteva l'inaccessibilità del bunker fatto è che lui non respira più ci sono appunto le bambine decide di uscire e viene arrestato fu una vittoria dello stato importante dello stato poi attenzione quando si dice vittoria dello stato di una parte dello stato le mafie sono parte integrante dello stato italiano e non solo quindi quando si parla di camorra come antistato si fa un enorme errore la camorra è una parte dello stato che ha alleati in ogni ambito giudiziario politico imprenditoriale dello stato e poi c'è un'altra parte dello stato di contrasta o tenta di contrastare e cosa racconterà cosa potrebbe raccontare beh la storia d'italia non la storia una provincia e l'alta velocità la gestione del ciclo dei rifiuti l'assalto al cielo che ha fatto questa organizzazione dagli anni 80 oggi gli omicidi pochi giorni fa è stato l'anniversario dell'assassino di don peppe diana don peppe diana fu ammazzato anche con l'obiettivo di far arrestare sandokan che era latitante i rivali di sandokan hanno ucciso da don peppe che lui secondo loro non era riuscito ad ammazzare e per ora mi fermo qui sarà ancora lunga la disamina su sandokan che farò ma c'è da dire un'ultima cosa sono anni che lo stato si mostra molto debole sia in competenza sia in contrasto contro le mafie il segmento è sempre arrestare i soldati killer sequestrare un po di droga fa sembrare che si tratti di bande il sistema economico che dietro le organizzazioni criminali tiene il paese tiene il paese in piedi e quindi attenzione alla retorica che adesso spenderanno dai tribunali come nei parlamenti le organizzazioni criminali sono l'economia d'avanguardia di questo sciagurato paese capire come un'organizzazione criminale abbia gestito il ciclo dei rifiuti il ciclo del cemento il ciclo della distribuzione petroli abbia quindi benzina le pompe bianche compiti benzina bianche e tutto questo la distribuzione del genere alimentari la grande distribuzione quindi i supermercati come sia stato possibile nei decenni che questa economia l'economia criminale abbia alimentato l'economia legale beh questo questo è nelle possibilità di Sandgan di potercelo raccontare